Abbiamo fatto una prima parte di lavori molto impegnativa sulle questioni internazionali, sulla grave emergenza ebola. Ricordate che il nostro Paese ha stanziato 50 milioni di dollari a seguito della conversazione telefonica con il Presidente Obama e gli altri paesi del 2017 la settimana scorsa. Abbiamo affrontato le questioni del momento, compresa la questione di Cifro, che forse qualcuno di voi ha avuto modo di seguire. Adesso abbiamo una piccola pausa di 10 minuti e poi iniziamo e parleremo tutta la sera di questioni legate al climate change. Rispetto alle questioni economiche, sulle quali i sensi mi ha costretto a venire a relazionarvi. La discussione si terrà domani, come sapete, quindi non ci sono elementi di novità. Confermo che si tratta di fare una valutazione, direi, più politica di chi decide cosa che non tecnica, perché dal punto di vista tecnico le risorse e gli strumenti per trovare le soluzioni sono ampiamente a portata di mano e credo che nella giornata di domani, magari alla fine della giornata di domani, potremo organizzare un momento di incontro per poter approfondire nel dettaglio tutte le questioni che si sono, che si saranno verificate e dipanate. Adesso io con la vostra solidarietà torno su e andiamo a passare i 2 miliardi di cui ho parlato oggi sono aggiuntivi rispetto alla riserva di 3-4 annunciata con la presentazione della legge di stabilità. Sono questioni molto chiare. Nel momento in cui l'Italia rispetta il 2,9%, meglio rispetta il 3% del deficit e sceglie l'aggiustamento strutturale nella legge del draft, di legge di stabilità dello 0,1, gli oltre 3 miliardi valgono in modo molto rilevante per più dello 0,2% per arrivare a raggiungere una quota complessiva sugli aggiustamenti strutturali di oltre 0,3%. Però noi non siamo adesso interessati a discutere se deve essere 0,1,02, 0,25, 0,3. Il punto vero è che noi vedremo domani se il concetto di circostanze eccezionali e di riforme strutturali e di significativa deviazione che sono le tre espressioni che vengono utilizzate dalla Commissione sono oggetto di una valutazione identica in tutti i paesi e siamo assolutamente disponibili a livello tecnico a ragionare, a discutere e a trovare le soluzioni. Quindi rispetto alla sua domanda non sono aggiuntivi. Rispetto però alla discussione per voi che conoscete gli strumenti europei la questione è a chi decide che cosa, cioè la significatività della deviazione. Chi la decide? Formalmente è la Commissione che ne prende atto, la porta al Consiglio, il Consiglio valuta, poi la Commissione deve ritornarci sopra. Sono procedure alquanto articolate. Tutto questo però per dirvi come si tratti di una questione sostanzialmente semplice nella risoluzione, un pochino più complicata nella gestione politica, ma domani ci sarà un modo di verificarlo e valuteremo. Il nostro budget mi sembra messo come lei sa molto bene, quindi non vedo particolari problemi, glielo ho già detto, ci sono delle voci che noi abbiamo ottenuto appositamente da parte, vedremo quello che succederà, nel senso che il budget ovviamente cambierà nella discussione della legge di stabilità sulla base delle indicazioni parlamentari. So che vi può sembrare una cosa strana, visto che sono le 23.05 ora italiana, nonché ora bruxellese, però io ci tenevo molto tramite vostro a fare gli auguri di buon compleanno, che ho già fatto per telefono a un grandissimo italiano che è Alex Zanardi. L'ho sentito quest'oggi, so che magari vi interessa meno delle discussioni di Bruxelles, però ci sono milioni di persone che vedono in questo straordinario atleta l'emblema di un uomo che dà del tuo alla vita e che continua a dare prove di coraggio strepitose e bellissime. Ecco, io credo che Alex Zanardi rappresenti l'Italia più bella e più in generale quelli che non si arrendono mai. Io volevo fargli di cuore l'imbocca al lupo, il buon compleanno e naturalmente ringraziare tutti voi per questa serata che immagino per voi finirà qui, mentre io con grande gioia adesso torno per parlare di Climate Change, è stato presentato un progetto di leggera modifica rispetto alle questioni di stamani, quindi andremo a verificarlo adesso paragrafo per paragrafo, sono convinto di andarci con la solidarietà dei giornalisti qui presenti. Come? Dunque, fermi un secondo, voi mi aspettate qua? È una minaccia. Io però non parlo dopo. Ci pagano per aspettarla qua. Ci pagano per aspettarla qua. Vabbè, questo dimostra il senso delle difficoltà di questo paese. Sì, fa parte ancora del Consiglio Europeo per cui ci ha parlato, ci ha discusso, ho scherzato, ho sorriso come sempre. Vorrei che ciascuno di voi avesse grande serenità per questa meravigliosa serata che ci attende. Vi auguro allora di restare qui e sono molto felice di vedermi tra circa tre o quattro ore perché temo che la discussione su Climate Change andrà avanti e poi domani mattina si riparte. Capite che io adoro questi palazzi, sono felicissimo di queste meravigliose le riunioni. E con questo prendo e seguo Sensi che credo non mi manderà più giù a questo punto, nelle pause. Com'è? L'obiettivo era quello. L'obiettivo, questo obiettivo era giusto e vediamo gli altri. Ciao ragazzi. Buon lavoro, buon lavoro.